Perché dice che cosa c'è di più buono delle melanzane alla parmigiana? Più buono delle melanzane alla parmigiana c'è le melanzane alla parmigiana dopo aver fatto 15 km a piedi, è sicuramente più buono. Allora, sta vietta da qualche parte, pensate, qui c'è un parcheggio a pagamento, chi va in bicicletta non parcheggio a pagamento, è gratis per la bicicletta, ti rendete conto? Si risparmia sulla benzina, si risparmia sui costi della palestra, si risparmia sui costi del parcheggio, si risparmia sulla manutenzione, si fatica di meno perché la macchina la devono lasciare a 2 km e invece con la bicicletta la lasci molto più vicina, molto più vicina. si risparmia sull'assicurazione, si risparmia sulle multe, sulle multe per eccesso di velocità, vedete che bella discesa? Allora, faccio come man spiega, guarda che spettacolo, che spettacolo Civita, guarda com'è sospesa, fantastica, noi faremo quella salitella, siete pronti? Sono pronto? Cioè quella è una salita che è pure a piedi di Esverena, e io tenterò di farla tutta in prima in bicicletta, perlomeno ci provo, mi ci vorrebbe una Red Bull, vado! Allora, prendiamo nota, qui si magna, uno potrebbe dire, prima di salire magno, e io e io avrei fatto così, nell'era, prima dell'acquisto della mia flyer, avrei detto, prima magno, poi si vedrà, e invece, guarda il trattoretto, il trattoretto, guarda che figata, il trattoretto che porta sulla merce, o la cosa del lavoro, figata ragazzi, figata, figata, si proviamo, proviamoci, e, Sì, sì, sì. Basta così.